ci sono giorni in cui i capelli non stanno in nessun modo troppo secchi troppo grassi senza tono senza forma e lo specchio diventa come un nemico che aggiunge stress alla nostra giornata già pesante è vero anche a me succede proprio così mi vengono i nervi già a volte i capelli riflettono l'umore e viceversa vediamo allora cosa fare per avere i capelli sempre perfetti usiamo un rimedio della natura piccolissimo e fortissimo i semi di lino perché funzionano così bene per i capelli sono ricchi di acidi grassi essenziali vitamine minerali che nutrono i capelli e il cuoio capelluto ma cosa c'entra il cuoio capelluto con i capelli è il cuoio capelluto che nutre i capelli o che li fa cadere i semi di lino fanno tre cose importantissime per la nostra chioma 1 curano il cuoio capelluto se il cuoio capelluto è sano i capelli sono sani e belli i semi di lino aiutano a bilanciare il ph del cuoio capelluto e il sebo in questo modo i capelli non sono più né secchi né grassi 2 danno lucentezza e morbidezza i trattamenti il phon e l'aria inquinata rendono i capelli spenti e opachi i semi di lino contengono preziosi oli naturali ricchi di omega 3 che rendono i capelli subito luminosi e molto più soffici perché hanno un potere condizionante come un vero balsamo naturale 3 aiutano i capelli a crescere meglio sono ricchi di vitamina e e beta carotene antiossidanti che proteggono cuoio capelluto e capelli e accelerano la crescita migliorando l'aspetto in modo visibile a noi e agli altri ma i semi di lino non si mangiano come si usano per i capelli ci sono diversi modi vediamo i due più efficaci e veloci da fare a casa 1 balsamo naturale ai semi di lino ingredienti 30 grammi di semi di lino 200 millilitri di acqua 5 gocce di olio essenziale di lavanda metti a bagno i semi di lino nell'acqua per tutta la notte al mattino fai bollire per 2 minuti a fuoco lento mescolando bene filtra e quando è tiepido versa in un barattolo e aggiungi la lavanda usalo come un balsamo con in più tutti i benefici dei semi di lino puoi conservare il barattolo in frigo per una settimana 2 maschera per impacco naturale ai semi di lino ingredienti 40 grammi di semi di lino 100 millilitri di acqua un vasetto di yogurt naturale fai bollire i semi nell'acqua per 5 minuti lascia raffreddare filtra e aggiungi lo yogurt applica sui capelli lascia in posa per 30 minuti e risciacqua bene poi lava i capelli con uno shampoo neutro e vedrai la differenza usa i semi di lino per un mese ogni volta che lavi i capelli poi continua una volta ogni 15 giorni per avere capelli sempre perfetti in descrizione trovi il link ai miei libri ed ebook sulla cura naturale dei capelli e sulla bellezza olistica noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente iscriviti al canale metti il tuo mi piace attiva le notifiche condividimi e grazie per avere guardato questo video ciao